Grave incidente questa mattina in un capannone artigianale che ospita una ditta tessile in via Niene a Oste di Montemurlo. L'allarme è scattato attorno alle 9. Secondo quanto appreso è crollata la copertura di un soppalco adibito a uffici dove era assalito uno dei titolari della ditta per verificare delle infiltrazioni d'acqua. L'uomo, 75 anni, ha fatto un volo di circa 3 metri procurandosi un grave trauma cranico. Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze, una della misericordia, una della croce d'oro di Prato con medico a bordo che vista la dinamica dell'incidente e l'età del ferito ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il punto d'incontro tra l'ambulanza e Pegaso è stato l'eliporto dell'ospedale Santo Stefano. L'anziano è stato accompagnato al policlinico di Careggi in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime per i medici la prognosi è riservata. Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti i tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell'Asla e Toscana Centro e i Carabinieri per i rilievi del caso.